Tra il rischio e sondazione del torrente e il pericolo che corre veloce sulla strada, i residenti di via Tufarola, costretti d'inverno ad alzare le barricate, invitano l'istituzione a intervenire, a permettere in sicurezza il corso d'acqua, di qualificare e dotare di strumenti più efficaci di controllo al tratto di asfalto, che soprattutto di sera avvertono gli abitanti, diventa una pista da rally. Antonio Iannacone rivela che quando piove l'acqua della torrente si ingrossa pericolosamente, più volte è sondato fino a invadere la sua abitazione, così come ribadisce che ha segnalato il caso agli enti competenti fino ad ora, però nessun intervento è stato eseguito per rendere meno vulnerabile il torrente, così come nonostante gli appelli, la bretella che collega Tripalda d'Avellino, punto di snodo sempre più trafficato, resta a rischio per pedoni ed automobilisti. Sì, perché c'è pericolo che si occludono questi bondicelli che stanno qua e si corrisce che l'acqua arriva in mezzo alla strada e non dalle abitazioni, qualche abitazione, principalmente la mia che sta qua. Io più volte mi sono rivolto al genio civile, provincia, prefettura, comune di Tripalda, però fanno a scarica barile, ognuno dice che non è di loro competenza, addirittura un tecnico della provincia mi disse che avrebbe fatto una conferenza dei servizi, però fino a questo momento per vedere chi doveva interessarsi. Insomma quali sono gli interventi che dovrebbero essere? Gli interventi principalmente è la pulizia del torrente, è la cosa più importante, perché il letto del torrente si è alzato a furia del... quando arriva l'acqua trasporta detriti, trasporta legna, trasporta un po' di tutto e col passare del tempo su questo bondicello qua, addirittura sotto, si è alzato il letto del fiume, con pericolo che quando arriveranno le forti piogge esonda il fiume e viene in mezzo alla strada diciamo qua e danneggerebbe la mia abitazione. Una strada come vediamo nel degrado? Questo bondicello deve passare uno per volta, le macchine e i pullman quando si incrociano in questo punto, ci vorrebbe un po' più di attenzione per quanto riguarda pure la viabilità, poi bisogna dire pure qualche altra cosa, che nessuno rispetta i limiti di velocità qua, c'è un limite di 30 all'ora, però non viene rispettato da nessuno.